Assolutamente sì, 80 passagioni sono tanti e credo che a parte invertite anche il Teramo, che devo dire si è giocata la partita, è una squadra che ha una sua identità, nonostante la posizione in classifica, avrebbe preferito soffrire magari anche un po' di più, portare a casa i tre punti. Quindi da parte mia c'è sicuramente un'analisi oggettiva che è quella che la squadra non ha mai mollato, ha sofferto, ma questo campionato e non solo, soprattutto questa categoria, è una prerogativa dalla quale non puoi assolutamente prescindere. Tra l'altro i ragazzi non hanno mai mollato, ripeto, il Teramo è una squadra che gioca e quindi ti fa correre anche a vuoto a volte. Noi non abbiamo oggi quelle conoscenze, quella compattezza, quella padronanza del campo, di alcune situazioni dove la palla va gestita anche in maniera più serena. C'è il desiderio di questa vittoria da un po' di tempo e quindi andare in vantaggio e poi essere rimontati allo scadere del primo tempo ti può sicuramente abbattere. Invece siamo rientrati in campo, abbiamo avuto la reazione, siamo andati sul 2-1, abbiamo mantenuto il risultato, avremmo potuto anche nel primo tempo concretizzare qualche situazione in più, con Paloschi, con lo stesso Laverone, con Bani, sul calcio d'angolo, un paio di situazioni dove siamo andati di nuovo vicini al gol e anche il Teramo ha creato le sue occasioni. Quindi è stata una partita, secondo me, giocata per il momento utilizzando le armi che abbiamo a disposizione. Quindi quando abbiamo potuto, abbiamo provato a giocare, quando non si poteva dobbiamo portare a casa il risultato e credo che questa sia la miglior medicina anche per provare a chiedere qualcosa in più che oggi non si vede, che mi auguro si possa vedere nelle prossime settimane. Ecco, i grandi passi in avanti, soprattutto per la capacità di reagire di questa squadra. L'abbiamo visto con l'Imovese, l'abbiamo visto oggi dopo il gol subito del pareggio, ma anche questo è un motivo di orgoglio e di soddisfazione? Assolutamente sì, infatti la sofferenza a volte viene presa come una caratteristica negativa, invece no, i ragazzi hanno letto, hanno capito anche il momento e bisogna essere realisti. Dovevamo portare il risultato a casa perché uscire oggi dal campo, nonostante venissimo da una buonissima prestazione a Reggio, però a casa non abbiamo portato nulla, nonostante abbiamo incontrato la prima in classifica, ma questo non conta. A volte si è demoralizzato proprio perché certe prestazioni non vengono consolidate con il risultato. Oggi forse un qualcosa meno, ma abbiamo giocato a distanza di tre giorni, per fortuna qualcuno aveva energie fresche, non solo fisiche ma anche mentali, vedi Pezzella, Laverone, lo stesso Bani che era squalificato partita scorsa, quindi sono tutti aspetti che vanno considerati allo stato attuale e anche il tempo che abbiamo avuto a disposizione, perché non c'è un rapporto duraturo tra me e i ragazzi. Oggi si deve badare soprattutto ad essere compatti, avere una solidità, venivamo da sette sconfitte consecutive, abbiamo fatto la sconfitta scorsa, abbiamo recuperato una partita colimolese sotto, quindi sono tutte considerazioni che non possono essere trascurate e quindi hanno il loro perché. Ovviamente poi faremo noi un'analisi come tecnico e come staff nel dettaglio per provare a lavorare su quegli aspetti che ci possono far soffrire un po' meno.